nel tempo in cui tutto è connesso unito come in un'unica rete fili di una trama che si intrecciano dove logica incontra intuizione dove le idee atterrano su grandi cose e le grandi cose diventano strumenti che ci proiettano verso un futuro sempre più lontano nasce il progresso e si arricchisce ogni giorno di nuovi traguardi in un mondo di tecnologie al servizio dell'uomo dietro un sogno dietro una scoperta dietro una soluzione dietro un istante dietro un'emozione ci sono persone ci siamo noi grazie a tutti grazie a tutti